Un semplice commento? Ci porteremo dietro tutta la vita quello che è successo. Cosa vi aspettavate? Niente, solo nulla. Chi lo comunicherà a Luca? Noi, o lo vedrà dalla televisione. Una sentenza ingiusta secondo lei? No, le sentenze della Cassazione sono sentenze, basta, non vanno giudicate. Allora, ho ritenuto giusto così e di questo è, basta. Grazie. Mi auguro che possiamo avere un futuro per tutti. Ce lo ripeto, ce lo ripeto. Ci sia un futuro a tutti, ci possa essere un futuro per tutti. Grazie. Avvocato, quindi, Davide, la sentenza se l'aspettava? Non so dare una risposta a questa domanda. Mi sono chiesto varie volte come sarebbe finita oggi, avevamo anche un problema di ammissibilità dei motivi di ricorso, come avete sentito, seguendo credo l'udienza, comunque come vi è stato detto, è stato respinto da questo punto di vista anche l'appello del procuratore generale di Ancona. Ma questa, diciamo, non può essere una soddisfazione, è una soddisfazione molto parziale, molto personale, per il resto, certo, speravo, credevo e pensavo che ci fossero ottime ragioni per annullare parzialmente la sentenza in punto a tentato omicidio, che era il punto più critico.